Importante incontro al comune di Giulianova tra il neosindaco Ivan Costantini e i rappresentanti di FPCGL, FIA e la RSU delle Cotedi. Confronto volto ad evitare uno sciopero che bloccherebbe la raccolta dei rifiuti. Sul piatto della bilancia diversa le richieste avanzate all'azienda che si occupa di igiene urbana è tutto e come sottolineato dai sindacati aventi un fondamento contrattuale nazionale, ma tutte rimaste da tempo inascoltate. Noi abbiamo posto al sindaco tutte le problematiche che abbiamo anche posto nelle tavole di trattativa alle Cotedi. Abbiamo fatto le nostre richieste e il sindaco si è preso l'impegno che a setto giuro di Pocosta avrebbe chiamato Ercoli Diodoro, il presidente e l'amministratore delegato di Cotedi, dove rappresentava le nostre richieste e ci avrebbe fatto sapere. È chiaro che noi non torneremo indietro rispetto a quelle che sono le nostre richieste, perché la stragrande maggioranza sono indennità previste dal contratto nazionale. Abbiamo posto anche un ulteriore problema nel piano organizzativo della Diodoro, Ecologia e della Teramo Ambiente. Quando vinsero l'appalto c'è scritto molto chiaramente che ogni anno nel periodo estivo dovevano assumere 17 nuove unità. Non l'hanno mai rispettato. Noi ogni anno l'abbiamo denunciato. Le passate amministrazioni non ci hanno mai dato retta. Noi abbiamo detto anche questa cosa alla sindaco. Vediamo che cosa succede nei prossimi giorni.